bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo941 e oggi siamo qui per una notizia un po così così ovvero signori miei e ieri quando ho finito di registrare la il video di la carriera allenatore con il venezia per sbaglio me ne sono accorto oggi ho salvato la carriera sul salvataggio del nostro carissimo boris dimitrov ovvero sulla carriera giocatore che avevamo che stiamo portando avanti con puntata dopo puntata quindi signori miei ho guardato se c'era un vecchio salvataggio il salvataggio di recupero una cagata qualsiasi e non c'è nulla signori miei quindi vi comunico ufficialmente che la carriera con nostro carissimo boris dimitrov il nostro zardi russo il nostro caparezza junior si è andata a finire nel cesso allora quindi sono qui perché signori miei perché dobbiamo decidere un attimino una cosa assieme e voglio parlarne con voi nella community troverete un nuovo sondaggio ovvero se iniziare una nuova carriera giocatore creando un nuovo personaggio magari questo lo potremmo fare in live e quindi partire in una nuova avventura magari con una squadra italiana questa volta oppure se sostituire questa serie della carriera giocatore con un'altra serie sempre su fifa magari potremmo iniziare un'altra carriera su fifa 20 ma qui potremmo prendere una squadra prendere una squadra e comprare tutti i giocatori per esempio tutti i giocatori di una stessa nazione oppure tutti i giocatori con lo stesso cognome e quindi cercare la scalata al successo con una formazione costruita in questa maniera quindi una cosa diversa rispetto a quella che stiamo facendo col venezia non lo so troverete il sondaggio nella sezione community del mio canale ragazzoli votate tanto oramai se ne parla la prossima settimana a far uscire un prossimo video in di questa situazione e fatemi sapere qual è la vostra scelta mi dispiace per il piccolo imprevisto ma purtroppo sono cose che capitano e niente ragazzoli vi auguro un buon 25 aprile e noi ci vediamo sempre qui sul canale per qualche altro nuovo contenuto bella raga ciao